Oggi 20 novembre si celebra la giornata mondiale della BPCO, poi ci spiegherà di che cosa si tratta. Come si sta muovendo Ari per questa occasione e quali sono i risultati che intendete perseguire con la campagna del buon respiro? Allora la BPCO significa broncopneopatia cronico-ostruttiva, è una malattia che colpisce il polmone e le vie aeree e che essenzialmente è provocata dal fumo di sigaretta o da altre sostanze, gas, inquinanti eccetera. È una malattia molto subdola perché inizia lentamente e quando il soggetto se ne accorge già sono passati molti anni. Anche perché culturalmente alcuni sintomi come per esempio la tosse e il catarro vengono a torto ritenuti normali in chi ha un'abitudine diciamo a fumare. Quindi perché questa campagna? Innanzitutto per sensibilizzare le persone che la patologia esiste ma che si può combattere efficacemente. E due anche per sottolineare quelli che sono gli aspetti principali di questa cura. Quindi sicuramente riconoscere la malattia, sicuramente aderire a quella che è la terapia medica, poi aggiungiamo un piccolo particolare su questo, e in più aggiungere a questo la riabilitazione respiratoria fatta da fisioterapisti respiratori. Perché? Perché la malattia come ho detto ha come sintomo principale la tosse e il catarro ma poi si manifesta con la mancanza di respiro. Prima per attività molto più intense e poi via via per attività più semplici. Ma spesso le persone non si accorgono di questa malattia perché in maniera del tutto inconsapevole evitano di compiere quegli sforzi, quelle attività che procurano mancanza di respiro. E quindi diventano dei soggetti che non sono più allenati. Allora, fare la terapia medica e insieme la riabilitazione aumenta notevolmente i risultati di controllo della malattia e quindi riduce notevolmente i sintomi e migliora proprio la qualità di vita della persona. Aggiungo una piccola specifica sulla terapia che in genere è una terapia che si fa aerosolica. Cioè si innalano dei farmaci o con le famose bombolette spray o con degli altri apparecchi che devono arrivare direttamente nel polmone e nelle vie aeree. Ora, fare una terapia di questo tipo non è semplice come ingerire una pastiglia. Serve imparare la tecnica giusta e in questo caso il fisioterapista respiratorio o anche altre figure sanitarie come l'infermiere, il farmacista e il medico stesso possono istruire e bene preparare la persona. Altrimenti, come dire, la terapia diventa anche molto meno efficace solo per questo aspetto qua. Altrimenti, come dire, la terapia diventa anche molto efficace solo per questo aspetto. Grazie. Grazie a tutti.